Siamo ad Averne e sta per iniziare il concerto della Vandal Sinfonietta. Come commento della serata è il mio entusiasmo, intanto per aver sentito la mia musica eseguita da una delle migliori compagini di strumentisti che ci sia al mondo, in secondo luogo per essere inserito in un concerto di pezzi di altissimo livello, di cui mi sento in eccellente compagnia. Questa serata è stupenda, eccezionale, soprattutto queste prime due persone, che sono veramente al di là delle aspettative. ... 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